Allora, qualche commento sul principio di violenza che ho detto all'altro gruppo e credo che sia giusto dirlo a voi, di nuovo questo non è proprio il programma ma è cultura generale, credo che ogni studente di fisica, dell'esame di fisica, non della facoltà di fisica, quindi studenti di fisica sì, studenti di ingegneria sì, studenti di matematica che stanno studiando fisica dovrebbero sapere, almeno aver sentito parlare del principio di equivalenza, dovrebbero aver sentito dire che la luce in un campo gravitazionale cade come cade un sasso, dovrebbe capire che cadrebbe in un razzo accelerato e quindi nella ipotesi, nel principio, nell'idea di partenza, che queste due situazioni, cioè essere su un pianeta con i motori spenti o essere nello spazio con i motori accesi che siano indistinguibili, fa arrivare alla previsione che la luce deve cadere in un campo gravitazionale, che quanto cade dipende dall'accelerazione del razzo, di quanto cade dipende dall'accelerazione della forza peso, questo è il principio di equivalenza, però, in realtà, Einstein era una persona molto intelligente e ha capito che questa equivalenza, shhh! cioè l'impossibilità di distinguere in quale situazione vi trovate, è vero a patto che, shhh! la nave spaziale che è sul pianeta non sia troppo grande. perché? Perché cosa vuol dire troppo grande? Rispetto a cosa? Rispetto al raggio della terra, perché se voi avete, se questo è la terra e questo è un laboratorio, shhh! che è appoggiato sulla terra, una navicella molto grande, vedete che è grande, la sua dimensione è grande rispetto al raggio della terra e comincia ad essere una percettuale importante con questo disegno. Se voi siete qua dentro e lasciate cadere questo corpo e questo corpo, cosa succederà? Questo corpo accelera nella direzione del centro, questo corpo accelera nella direzione del centro, quindi questi due verticali non sono parallele e quindi quei due corpi nel cadere non li vedete andare giù parallelamente, ma ognuno va verso il centro della terra e siccome sono molto distanti rispetto al raso di curvatura voi vedrete che questi due verticali non sono parallele, in fondo il tipo che è qui e fa cadere una pietra, la sua verticale è questa, quello che è qui ha una verticale diversa, non vi pare? Sono verticali diversi, ognuno ha la sua verticale nella sua zona, chi è vicino a lui non loterà in realtà non è vero che gli antichi e le persone del medioevo pensassero che la terra fosse piatta, questa è una cazzata colossale che si dice in giro, perché già i greci avevano capito che la terra non era piatta e siccome nel medioevo la gente colta, studiava i testi greci, sapevano che la terra non era piatta, casomai era la gente che non aveva studiato, non aveva mai sentito parlare di cosa pensassero i greci, che pensava che la terra fosse piatta, non è vero che Colombo rischiava di finire all'orlo di una terra piatta e cadere chissà dove, non era quello il contenzioso con Colombo, la gente a cui lui chiedeva i finanziamenti per fare questa ricerca di Adaralini non lo contestavano sul fatto che la terra è piatta, no sapevano che era tonda, non erano d'accordo nel suo calcolo del raggio della terra e quanto tempo, qual era la distanza che serviva per arrivare alle Indie, era quello il contenzioso, infatti Colombo aveva sbagliato il calcolo, pensava che la distanza tra l'Europa e l'India fosse molto più breve, perché pensava che la terra avesse un raggio più piccolo, ed è una fortuna che tra l'Europa e l'India ci fosse una massa terrestre, perché non sarebbero arrivati e sarebbero finito le scorte e sarebbero morti di fame o chissà cos'altro, era una fortuna che c'era, quindi non è vero che la gente pensava che la terra era piatta, questa è una cazzata, però nella nostra esperienza quotidiana la verticale qui è parallela alla verticale qui, cioè non riusciamo a misurare il non parallelismo, perché la distanza tra questa verticale e questa verticale qua è solo di due metri, invece il raggio della terra cos'è? E' qualche migliaio di chilometri, quindi non c'è speranza di vedere che questa verticale non è proprio parallela a questa, entro qualsiasi qualsiasi esperimento vediamo il parallelismo, d'accordo? E' solo quando la distanza tra un punto e l'altro è molto grande rispetto al raggio che vi accorgereste che le verticali non sono parallele, d'accordo? Allora, se voi per esempio, come potreste sapere di essere su un pianeta, se il laboratorio è sufficientemente grande, in confronto con il raggio di curvatura dell'oggetto che sta creando la forza di gravità, allora vi accorgerete di non essere in un razzo, perché se il raggio sta accelerando, anche se è molto grande, avrete sempre il parallelismo tra le verticali, no? Invece se siete su un pianeta e il raggio è sufficientemente grande, vedete che i corpi cadono così allora dite, ah non sono in un raggio con motori accesi, sono su un pianeta, capite? Quindi l'impossibilità di distinguere è a patto che il laboratorio in cui voi fate l'esperimento non sia troppo grande, quindi è un'equivalenza locale, localmente in un laboratorio, allora voi non sapete distinguere, d'accordo? Ma c'è qualcosa in più che merita essere detto? Cosa succede se voi siete in questo laboratorio e siete in caduta libera? Cioè, che non è un ascensore, questo è il vostro ascensore che sta cadendo, il cavo è stato troncato finché siete in caduta libera, che bello, fluttuate, ah che divertente, i guai ci sono quando c'è l'impatto con la terra, ma nella caduta è bello, divertente, ha senso di peso. Se il laboratorio è sufficientemente grande, un corpo qui e un corpo qui, che voi lasciate e stanno fluttuando, cosa succede? Se il laboratorio è sufficientemente grande rispetto al raggio di curvatura, voi vedrete queste due particelle avvicinarsi, no? nella loro caduta, magari disegno una sequenza qua, prima l'ascensore, il caduta è qua, poi si trova qua, poi si trova qua e sta per urtare il suolo, ma non l'ho ancora fatto, non mi interessa l'impatto, mi interessa la caduta, questo sta cadendo verso il centro, ovviamente questo non è vero, se questo è il centro allora il pianeta è così, no? Quindi, chi sta cadendo nell'ascensore cosa vede? Vede le particelle avvicinarsi, non vi pare? Invece, se siete in un laboratorio piccolo, le due le due particelle rimangono ferme nella vostra caduta, ma se state cadendo, se il laboratorio è sufficientemente grande, oppure il raggio di curvatura del pianeta è molto piccolo, il pianeta della stella, la stella ha neutroni, un buco nero, sono piccoli, hanno raggi piccoli, state cadendo vicino uno di questi oggetti molto piccoli, con molta massa, la cosa interessante è che voi nella vostra caduta vedete, state cadendo, ma queste due si avvicinano, siete d'accordo? Pensateci, ma c'è qualcosa di più, se il laboratorio è così, se è lungo, una particella è qua e una qua, questa è più vicina, quindi la forza peso, se volete, l'accelerazione che ha è più grande dell'accelerazione di questo, e quindi se siete in caduta libera in un ascensore che è molto lungo, lungo rispetto a cosa? A raggio di curvatura, vedete che uno, che si separano, si separano, per questo accendono di più di quello, quindi questo è indietro, si separano, così sembrano avvicinarsi, qua sembrano allontanarsi. e allora quando uno cade in un campo gravitazionale, e per esempio è in un laboratorio così, e voi siete fisicamente, questo laboratorio è fatto di particelle, questo è fatto di particelle, qua c'è una particella, qua c'è una particella, è il vostro corpo, questa è la vostra spalla, la spalla, la testa, i piedi, cosa succede quando cadete? Che questo è spinto così e questo è relativamente schiacciato, ma scusate, è stiracchiato, siete schiacciati e stiracchiati, in orizzontale siete schiacciati, vedete che siete schiacciati? Invece in verticale questo si muove più velocemente di quello, quindi siete allungati, queste forze che appaiono, quindi questo è di schiacciamento e questo è di stiramento, sono chiamate forse, qualcuno? Mareali, dalle maree, quindi ai miei tempi i studenti di ingegneria e gli studenti di fisica avevano tanti hobby che voi di questa generazione non hanno, noi costruivamo cose, frecce, fionde, giocavamo con giroscopi, con magneti e leggevamo libri di fantascienza, ogni tanto c'è qualche film di fantascienza e c'è il problema di avvicinarsi a un buco nero, attenzione, come ho detto stamattina il buco nero è un oggetto dove il campo gravitazionale è così forte che la luce è messa, torna indietro esattamente come questo oggetto, va su e torna giù, non riesce a fuggire, il campo gravitazionale è così forte che la luce si piega e ricade sull'oggetto, ma questa, questa, c'è una distanza dal buco nero che è chiamato l'orizzonte degli eventi e cosa succede? Adesso voglio scegliere, ovviamente non è il caso e mancano anche i presupposti, ma voglio dirmi qualcosa perché si trova nei libri di fantascienza scritti abbastanza bene, cioè da un autore che un po' di fisica sa, il problema dei buchi neri è che se voi oltrepassate questo orizzonte degli eventi ci cadete dentro e non riuscite più uscire fuori, poi sono vent'anni che la gente litiga su cosa succede a chi entra in questo orizzonte degli eventi, c'era una battaglia tra Hawking, quello la che ha la malattia di Stephen Hawking e tra un altro si chiama Leonard Suskind e c'è un libro edito da Adelphi che si chiama La guerra dei buchi neri, leggetelo, è molto ben scritto, ho imparato un sacco di cose, sono vent'anni che litigano, 25 anni hanno litigato per vent'anni, poi si sono messi d'accordo qualche anno fa, molto interessante cosa succede una volta che uno attraversa l'orizzonte degli eventi, ma se voi non l'attraversate, in teoria non vi succede niente, se voi vi avvicinate a un buco nero che ha un raggio di curvatura molto piccolo, avete queste forze mareali che vi schiacciano e vi stiracchino, vi distruggeranno, voi sarete strappati, sarete schiacciati e strappati, diventerà quasi degli spaghetti, molto sottili e molto lunghi, finchè proprio non vi rompete una nave spaziale che si avvicina troppo a un campo gravitazionale con un raggio di curvatura molto pronunciato, verrà distrutta dalle forze mareali, la gente si chiedeva cosa sono gli anelli di Saturno quando Galileo li ha visti, li ha intervisti perché il suo telescopio non aveva una risoluzione tale da vedere che erano degli anelli, vedeva al massimo in una delle sue figure c'era qualcosa che era una specie di rigonfiamento, vabbè, poi con i telescopi semplici e precisi hanno visto Saturno con qualcosa che aveva la sembianza proprio di anelli e si chiedeva ma questa roba qua è rigida? sshhhh! Maxwell, l'eroe della seconda parte del corso, capì con un conto delle forze mareali che non possono essere solide perché sarebbero rotte dalle forze mareali di Saturno, verrebbero compresse e spaccate, cioè questi sono pietre perché un oggetto grosso viene rotta dalle forze mareali, la terra con l'acqua viene distorta dal sole e dalla luna perché il campo gravitazionale non è uniforme, quindi la parte della terra che è più vicina al sole è attratta di più della parte che è più lontana, la terra viene distorta e nel suo movimento giornaliero queste forze mareali che ci sono, sono quelle che tengono, cioè uno dei contributi all'attività, al calore della terra, uno dei veri contributi della radioattività naturale delle sostanze all'interno della terra, però la crosta terrestre è sottoposta anche a grossi stress, forze mareali, compresso qua tirato per di là, quindi l'eguaglianza di Einstein fa un raggio accelerato e un raggio a motori spenti sul pianeta, è vero, a fatto che il lavoratore sia piccolo c'è un'eguaglianza locale e da questo Einstein ha detto, cazzo, come faccio a calcolare quindi il campo gravitazionale di un oggetto che invece ha un raggio di curvatura, quindi lui si è posto il problema matematico di descrivere questo fatto qui e non sapeva come fare, è andato dallo suo amico italiano, tra l'altro che si chiama Besso, per caso hai mai sentito parlare di qualche matematica che mi potrebbe aiutare in questo problema e lui ha detto, ah si, in qualche caso ci sono dei matematici italiani che hanno affrontato questo problema, uno è Levi Civita, di origine ebraica, italianissimo, e un altro che mi sfugge in questo momento il nome e sono due matematici che hanno fatto la matematica che descrive le forme geometriche, il problema geometrico che sottostante è tutto il problema tutto quello che volevo dire, era una puntualizzazione, adesso torniamo al problema di aprire e chiudere le porte molto più terreno, no? quindi se volete, se siete bassi e ciccioni e volete avere un'area un po' più più lungilinia e snella, cosa fate? Mettetevi vicino a un oggetto bassiccio che abbia un raggio di curvatura piccolo, che abbia un raggio piccolo e vedrete schiacciati e arrumati sarete più alti e più snelli, ma non esagerate sennò sarete strappati e schiacciati oltre la possibilità di sopravvivere e non esagerate. Allora, carcello qua perché questa è la manica che preferisco che c'è il fassoio, i gessetti colorati. Torniamo alla porta, tra l'altro Spero che sia chiaro questo disegno, questo era il muro, questa era la cerniera, questa era la porta, perché qualcuno dall'altro gruppo non aveva capito il disegno e mi ha fatto la domanda che non capivo, ho capito che la sua domanda era se questo è l'asse in rotazione, la porta è così, è vista dall'alto, c'è qualcuno che l'aveva capito? Allora, voglio proporvi due tipi di porte, questo è l'asse di rotazione, adesso sto disegnando così eh, sto disegnando così la porta, questo è l'asse di rotazione una porta che sia, devo fare in qualche modo questa premessa, il mio compito come docente è insegnarvi un po' di fisica, però è anche quello di insegnarvelo con un linguaggio sofisticato, non più quello del liceo, perché tutto questo modo di fare con la matematica, gli assi cartesiani, le derivate, i prodotti, i vettori eccetera sono cose che mi serviranno negli altri corsi, il contenuto di fisica mi auguro che rimarranno alcune delle leggi, ma la vera eredità del corso è come io faccio la fisica c'è l'uso della matematica, però quindi io devo roppervi le palle agli orali ma basta, io voglio parlare di una porta dove lo spessore della porta sia molto piccolo rispetto all'estensione della porta, della sua lunghezza, io voglio che lo spessore sia piccolo rispetto a questa dimensione e a questa dimensione, potrei usare il linguaggio matematico e pensiamo a una porta infinitamente sottile, però non voglio scomodare con concetti infiniti quindi lo lasciamo a matematici e vogliamo dire che sia sottile rispetto alle dimensioni quindi pensate a una piastra, quindi questa dimensione io non vi romperò le palle io voglio calcolare il momento di inerzia, cioè quello che appare qui stiamo discutendo questa formula qua, questo è il momento di inerzia, voglio parlare è il momento di inerzia di una porta, la porta che voglio considerare è una porta che sia sì grande ma sottile, quindi pensate a una piastra, quindi sono due porte che potrei proporvi una porta che sia per esempio, prendete una lastra di alluminio e io voglio che questa porta che ricavo da questa, la ricavo come? Tagliandola proprio a trac, ecco, con una, come si chiama? una doccia, ok? Devo tagliare via, quindi potete immaginare che ho tagliato via, ecco qua, questo è quello che ho tagliato via ed è questo che io costruirò, con cui costruirò la porta io voglio che questa piastra sia, userò la parola, io ve lo introduco, omogenea cos'è una piastra omogenea? Cioè voglio che la materia sia spalmata in maniera uniforme quindi cos'è un oggetto omogenea? Allora pensate a una piastra e voi che so con la vostra torcia tagliate un piccolo rettangolo qui, poi lo so un triangolo qui, poi che so un disco qui quindi voi avete il rettangolo, il disco, il triangolo che avete tagliato, no? Poi cosa fate? Misurate l'area di questo, attenzione a uno spezzone sottile, no? E' un piano matematico, sottile, infinitamente sottile Misurate la massa di questo, come si fa a misurare la massa? Cominciate a pensare ad un elenco di modi per misurare la massa Misurate, chiamate questo uno, due, tre Misurate l'area della uno, misurate la massa del corpo dell'uno Misurate l'area della due, misurate la massa della due Misurate l'area della tre, misurate la massa della tre E per ognuno di questi tre oggetti formate un rapporto Fate la massa dell'uno diviso all'area uno Quello che avete costruito è un numero che ha dimensioni Ha le dimensioni della massa diviso alla lunghezza al quadrato Nel sistema internazionale, chilogrammi al metro quadro Questo rapporto lo chiamate lambda uno Poi calcolate lambda due, cos'è lambda due? E la massa di questo diviso l'area della due Poi lambda tre, la massa della tre diviso l'area della tre E tirate fuori dei numeri Nel sistema internazionale, questo sarà tot, chilogrammi al metro quadro Se viene fuori che lambda uno è uguale a lambda due E uguale a lambda tre, cioè che indipendentemente da dove tagliate i pezzi Dalla forma con cui tagliate e avete sempre lo stesso numero Sempre lo stesso numero diremo che questa piastra Dalla quale avete ricavato i pezzi è omogenea Ok? Cosa che non è se voi avete una piastra fatta così Per esempio immaginate che metà è di alluminio e l'altra metà è di ovo Perché se tagliate un rettangolo di qua e tagliate un rettangolo di qua Anche nella stessa area avete masse diverse E quindi massa diviso l'area saranno numeri diversi Quindi se il concetto di omogeneo vi sfugge pensate a qualcosa di non omogeneo Cioè di qualcosa dove lambda uno è diverso da lambda due Invece se voi prendete una piastra di alluminio diremo che è omogeneo In questo senso che indipendentemente da dove tagliate una forma Di qualsiasi forma che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua Avete sempre lo stesso rapporto della massa della forma diviso l'area della forma Ok? Questo lambda che è condiviso da una piastra omogenea Si chiama la sua densità, densità di massa, ma di tipo superficiale È una densità superficiale perché è massa diviso l'area Ok? Su kg al metro quadro Quindi una piastra omogenea e una che è caratterizzata da una lambda Che descrive, sta dicendo, essendo una lastra omogenea Sta dicendo che la massa è distribuita in maniera uniforme sulla superficie Uniforme vuol dire che se la ritagliate qui avete lo stesso valore di lambda che la tenete qui D'accordo? Ci concurrono che non riesci a far rara questo concetto? Allora, questa è una porta fatta di una lastra omogenea Quindi la materia è sparpagliata uniformemente La materia è sparpagliata uniformemente Questo è un tipo di porta Un'altra porta potrebbe vagamente assomigliare a, facciamo così Una porta della stessa dimensione Questa è l'asse di rotazione Questa è un'altra porta Questa prima porta omogenea Diamo delle quote Chiamiamo questa distanza qua La chiamiamo A Questa distanza qua Questa distanza qua La chiamiamo B La porta complessivamente che massa A Se è una piastra omogenea E se lambda è la densità di massa superficiale O areale anche chiamata Densità di area Densità di cosa? Di massa? Di area E se la piastra è omogenea Allora la massa della piastra E' uguale a lambda per l'area della piastra Che è A per B Quindi M è la massa complessiva della piastra A per B è l'area della piastra Se conosco lambda, conosco l'area Conosco la massa della piastra D'accordo? Un altro tipo di porta Immaginate una porta di massa M La stessa massa La stessa massa E tanto visto che l'edificio è quello che determina la dimensione della porta E' l'architetto che ha fatto il zucco nel muro Che ha deciso l'area della porta Ma voi che volete scegliere la porta Da installare State scegliendo diverse porte Quindi la massa sia la stessa E l'area sia la stessa Questa è l'asse Quindi questo ha il disegno in leggero La dimensione della porta Ha la stessa dimensione Ma questa qua Invece di avere tutta la materia sparpagliata In maniera uniforme qui Tutta la massa M è qua E' tutta all'estremo Ovviamente qualsiasi ingegnere meccanico sa Che se io devo avere una porta Serve comunque che ci sia un raccordo tra qua e qua Quindi potete immaginare che ci sia anche una struttura Che tiene questo rispetto Che lo fa agire come una porta Ma tutta questa roba in più è massa trascurabile Cioè voglio che la maggior parte della massa di questa porta sia qua Quindi potete immaginare che so Questo di un vetro molto sottile Magari c'è un'intelagliatura di alluminio Ma qua è piombo C'è un'intelagliatura che gli da rigidità Ma la massa La parte più importante della massa di questa porta è tutta qua Invece questa massa è sparpagliata Questa è concentrata il più lontano possibile Cioè alla distanza A Questa invece è sparpagliata C'è un po' di materia alla distanza A C'è un po' di materia a distanza A mezzi C'è addirittura un po' di materia alla distanza 0 Proprio sull'asse D'accordo? Quale delle due porte è più facile da far accelerare angolarmente? Domanda dorale Domanda dorale Almeno intuitivamente Hanno la stessa massa le due porte La stessa massa La stessa massa Hanno anche la stessa estensione Ma qua la batteria è sparpagliata Qua invece è alla distanza A Quale delle due porte è più facile da aprire? Ovviamente sto immaginando di aprire la porta Del modo retto si intende Questo è il muro Questa è la ceniera Questa è la porta La porta sottile del disegno E io sto applicando la forza qui Abbiamo capito la lezione Se voglio aprire la porta Devo metterlo lontano dalla ceniera E devo mettermi a 90 gradi Quello non l'abbiamo capito Ma adesso sto parlando della porta Quale è più facile da aprire? Quale è più facile da far accelerare angolarmente? Dov'è la formula? Continua a scriverlo E poi lo accendo Ok Eccolo qua su Questo va nel piccolo riquadro Attaccato davanti al nostro accesso Quale è quello che a parità di momento torcente Perché il momento torcente è dato Da il prodotto vettore Tra il vettore r E la forza Quindi imprendete una persona Che può al massimo applicare la forza F0 La distanza è questa Qual è il momento torcente? Esercizio Chiamiamo questo L'asse x Questo è l'asse y La forza è qua Chiamate la forza F0 Perché è una forza nota La persona può applicare al massimo la forza F0 E quindi quale sarà? Dov'è il gesso blu? Ecco qua Anzi, metto l'origine qui Metto l'origine qui Questa è l'origine Quanto è Tau? Che direzione ha? Se volete usate la mano destra Ma usate il metodo cartesiano Del prodotto vettoriale Il vettore r Il punto di applicazione La forza è qua Il vettore r Cos'è? Il vettore che va dall'origine Al punto di applicazione Va 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 Quindi Voi dite Che Tau E' uguale a r Vettore F Quindi Questo è uguale a Chiamiamo D La distanza Chiamiamo A A La larghezza della porta Ok? Quindi questa distanza qua E' A Quindi il vettore blu cos'è? E' Questo è A Nella direzione Which Non vi pare? Quello che ho appena scritto E' il vettore R Si? Ho un collega russo Che non vedo da un paio di anni Ma ogni 30 secondi Dice si? Si? Yes? Anch'io ho un tic Ogni 30 secondi Faccio così Con la testa Lo sto guardando nel filmato Mi accorgo Che ho un'espressione Che è l'equivalente A dire Siete d'accordo? Si? Si? Prodotto vettore Cosa? F zero Che è nella direzione Y V di Y E quindi Questo è uguale a Prodotto Proprietà formale Dei prodotti vettori Che questo A Può essere portato fuori Che questo F zero Può essere portato fuori Ho A F zero E mi rimane da chiedermi Cos'è questo? E questo lo sapete tutti Perché state studiando assiduamente Ux Quindi questo è uguale ad A F zero U di z Da cosa deducete? Che tau è nella direzione z Per giunta è positiva Quindi se x di da y di da z esce Tau è uscente Eh? Ok Con quel tau Quale porta Accelera angolarmente di più? Questo? Quello Allora L'accelerazione angolare E' uguale a E' uguale a Tau Diviso I Quello che accelera di più Angolarmente Accelazione angolare E' quello che ha il momento di inerzia Inerzia Rispetto all'asse di rotazione Quello che accelera di più E' quello che ha il momento inerzia Più piccolo Quale delle due porte Ha il momento inerzia più piccolo? Prima di fare il calcolo Vorrei che qualcuno provasse a rispondere Quale delle due porte Hanno la stessa massa Stessa forma Quindi la larghezza della porta è A Eh? Il momento torcente è A F zero Nella direzione z Perchè state R F Tau Esce dalla lavagna Quale porta è più facile da aprire? Signorina che mangia le unghie Secondo lei è la porta 1 o la porta 2? Questa è la porta 1 E questa è la porta 2 No! Perchè il momento di inerzia non è più piccolo signorine Quale è il momento di inerzia di questo? E' lei che deve dirmi perchè crede che sia più grande Quale è il momento di inerzia della porta? Questa qua Questa è facile a calcolare Questa impiegherà un modo per spiegarvi Questa è facile, coraggio! Qual è la definizione del momento di inerzia? Qual è il momento di inerzia di questo appunto materiale rispetto a quest'asse? E' massa per la distanza al quadrato Qual è il momento di inerzia di questo appunto E' massa per la distanza al quadrato Quindi questa è una particella Questa è un'altra particella Questa è un'altra particella Cos'hanno in comune queste particelle? Hanno tutte la distanza A dall'asse Quindi il momento di inerzia Dove posso scrivere? Qua giù Se questo è un'asse Questa è una particella Qual è il momento di inerzia? E' massa per la distanza al quadrato Questa è un'altra particella Se questa qua è un'altra Se questo fa lo sistema Qual è il momento di inerzia del sistema? E' la somma dei momenti di inerzia Delle particelle che compongono il sistema La definizione è molto naturale Quindi se questa è la particella 1 Particella 2 Particella 3 Particella 4 Che hanno massa M1, M2, M3 e M4 Il momento di inerzia è M1 per la distanza 1 al quadrato M2 per la distanza 2 al quadrato M3 per la distanza 2 al quadrato Quindi ve lo dirò bene M1 D1 al quadrato Più M2 D2 al quadrato Più M3 D3 al quadrato Più M4 per la distanza 2 al quadrato Questo è il momento di inerzia del sistema Allora questa porta qua Pensatela come un sistema Qual è il momento di inerzia di questo sistema rispetto a questa asse? Allora uno cosa fa? Fa... Questa è la formula Poi dice Qual è la massa, qual è la distanza di questa particella? E' A Qual è la distanza di questa particella? E' A Mi Ognuno di quelli moltiplicato per un A quadro Questa è una somma Proprietà distributiva Tutti gli addendi hanno A quadro in comune Può essere portato fuori dalla sommatoria Quindi questo è uguale a Caccellino, caccellino E' A quadro per la somma delle Mi E quindi Il momento di inerzia di questa porta E' uguale a Massa della porta per la distanza al quadrato Perchè questa è la massa Quindi il momento di inerzia di questa E' una cazzata calcolarlo Ma guardate come l'ho calcolato La sommatoria di Mi per D al quadrato Adesso guardate qua Ci sono certamente delle particelle Che stanno a distanza A Ma ce ne sono anche altre Che hanno una distanza inferiore Ci sono anche particelle Che hanno distanza praticamente zero Quindi il momento di inerzia qua E' inferiore a quello Perchè tutte le particelle qui Sono alla distanza A La massima Fatta dall'estensione della porta Qua alcune le sono sparpagliate Alcune non sono tutte Alla distanza A Alcune hanno distanza inferiore Quindi deve essere chiaro a voi Che questa qua E' così Non tutte hanno la distanza A Moltissime hanno la distanza inferiore Quindi il momento di inerzia della porta 1 E' inferiore dell'omento di inerzia della porta 2 Quindi questa porta è più facile da aprire Hanno la stessa massa queste porte Ma è come la materia distribuita E' come la massa distribuita Che è più favorevole questa E' più facile da aprire Perchè? Perchè il momento di inerzia della 1 è più basso E' d'accordo signorina che è così? Perchè questo è il momento di inerzia della porta questa Questo è il momento di inerzia di questa Dove hanno tutte la stessa distanza Queste non sono tutte A Ce ne sono tantissime che sono inferiore A Quindi la somma qua è più piccola di quella E' d'accordo? Ma il secondo applicato a Steiner? Signorina Quella è una domanda disonesta Perchè io non ho parlato mai del teorema di Steiner Lei deve usare le informazioni che io le ho date finora Se lei cerca di capire quello che dico in base a cose che crede di aver capito Già! Sta sbagliando l'approccio di questo ricorso Lei deve mettersi qua quasi a mente tabula rasa E lentamente più o meno bene sto cercando di costruire un edificio In base a quello che io le sto dicendo signorina E' o non è d'accordo che questa somma è inferiore a quello? Si! E' d'accordo Allora Tiene le conseguenze Tutte e due hanno tau La stessa tau A F0 Diviso le I C'ha l'accelerazione della prima porta Che sarà il tau diviso il momento di resta della prima porta Quindi questo è I che vale 1,2 L'accelerazione angolare Dipende da tau che è comune Perché io sto spingendo la forza con la forza F0 La tau è la stessa Io applico una forza uguale alle due porte Sempre nello stesso punto E mi sto chiedendo E' più facile far accelerare il corpo e la porta 1 e la porta 2 La facilità L'accelerazione che un dato tau riesce ad imprimere alla porta E il tau divise il momento di inerzia Quindi la porta che ha il momento di inerzia più piccolo Visto che nel denominatore è quello che ha l'accelerazione più grande Siamo d'accordo? Cosa c'è da Steiner? Quindi questa porta è più facile da aprire Allora l'esercizio nell'ora che voglio rimane Quindi voglio calcolare il momento di inerzia di questa porta Questo l'abbiamo calcolato Quindi il momento di inerzia qua Il momento di inerzia di questa porta vuota Dove tutta la massa qua E' mA quadro Quanto è il momento di inerzia qui? La vogliamo calcolare? E voglio appunto dimostrarvi con un conto alla mano Che il valore del momento di inerzia di qui E' più basso di quello E vi direi anche di quanto è più basso Quindi ho bisogno di un po' di spazio Cancello tutta questa roba qua Mi raccomando voi meccanici Particolare attenzione Ma tutti quanti particolare attenzione Perchè il programma questo Ma non solo Perchè come imposto il conto E' un modo di fare i conti Che ritroveremo anche dalla seconda parte del conto Questo corso Quindi la tecnica L'idea Il modo di ragionare E' un modo di fare i calcoli Che spero Ognuno di voi Si porterà via Da questo corso Anche se non si ricorda Come mai le porte si aprono E' un grave per un meccanico Non sa per questo Un studente Un laureato di meccanica Io sono in commissione d'esame Di laurea Ma scusi Mi posso spiegare due parole Come si fanno ad aprire le porte Se non me lo sa dire Io dirò Sentite Voi lo potete anche laureare Ma non sa un cazzo Quindi Questo qui Ripetisco Ok? Io voglio calcare il momento di essere questo Quindi è una piastra omogenea Allora Prima cosa Comincio con una stima Questa è l'asse Questa è la mia porta Che ha larghezza A altezza B E massa M E quindi l'area è uguale a M diviso A per B E' una piastra omogenea Quindi se io prendo la massa della porta E lo divido per l'area della porta So che quel numero Sarà lo stesso numero che otterrei Se io tagliassi un quadrato qua Misurassi la massa E dividessi per l'area Ok? E' omogeneo Cosa faccio? Voglio fare una stima Allora il momento di inerzia Per definizione E' la somma della massa Io sommo su tutte le particelle Che compongono la porta E dico E' la massa della particella Per la distanza della particella Dall'asse al quadrato Adesso comincio con questa idea qua Guardate Questa particella Questa particella Questa particella Questa particella Cosa hanno in comune queste particelle Entro la precisione In cui riesco a fare il disegno Hanno la stessa distanza dell'asse Allora Da questa intuizione Faccio una cosa del genere Divido la piastra Mentalmente si intende In tante strisce Per esempio Guarda qua Questa è una striscia Partiamo da una prima Guardo questa striscia Questa striscia è alta B Ed ha una larghezza Chiamiamola Chiamerò Questa è l'asse x Qui è x uguale a 0 Questo punto Che dista A Avrà x uguale ad A Questo punto è x uguale a 0 Questo è Ci capiamo Questo è l'asse x Quindi questo qua Sarà una certa Chiamiamolo delta x E io dico E io dico Tutte le particelle Che compongono quella striscia Hanno la stessa distanza dall'asse E voi direte No professore non è vero Perché questa particella qui Ha una distanza che è diversa Da questa particella qui Sì 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 La differenza della distanza è delta x Hm? Io voglio fare una stima Quindi Io voglio Apprendere tutte le particelle Che compongono questo E Assegnare a loro Una distanza comune So di commettono l'errore Perché non hanno una distanza comune Eh? A rigore matematico Non hanno una distanza Perché? Perché la striscia è larga No? Ma io dico Va bene dai Sto solo facendo una stima Poi ci poniamo il problema Di come fare una stima migliore Ma fatemi scrivere giù un'idea Poi ci pensiamo assieme A come fare stime migliori Più precise Hm? Quindi la mia proposta È di dire Che vi assegnare Alle particelle che compongo Questa striscia Una sola distanza Una distanza comune E io decido Perché sono il docente Di scegliere la distanza Misurata dall'estremo a sinistro Non perché scegno dall'estremo a sinistro Ma semplicemente perché Si mi avrà di farlo Ok? Quindi io assegno A tutte le particelle Che compongono questa striscia qua La distanza Questa qua Hm? D'accordo? Misurata dal sinistro Quindi Io intendo far così Vediamo se riesco a dirlo con una certa chiarezza Divido la mia striscia in tante strisce Questa è una Tante strisce Una prima Una seconda Una terza Una quarta Una quinta Cinque strisce in questo momento Questa qua è la prima La seconda La terza La quarta La quinta Questa è la sesta Questa qua La chiamo La larghezza della quarta Questa distanza qua E la larghezza della quarta Delta x4 Non è detto che le strisce abbiano la stessa larghezza Le ho disegnate così Così è un po' un pic Ma potrei fare strisce di larghezza diversa Quindi questa diventa la striscia iesima Questa è la prima E questa è la larghezza iesima Quindi ho delta x i E la striscia iesima Questa è la prima Questa è la enesima In questo disegno n vale 6 Quindi io decido Visto che questa è una somma E questi sono numeri e Non sono vettori Questi sono numeri Certo hanno dimensioni Hanno chilogrammi al metro Chilogrammi metro quadro Chilogrammi metro quadro Chilogrammi metro quadro Chilogrammi metro quadro Non è diviso Chilogrammi metro quadro Chilogrammi metro quadro Questi sono numeri E i numeri reali Come potete sapere Nella somma Potete associarli Come vi pare No? Potete spostare i numeri nella somma Tanto la somma è commutativa 3 più 5 È uguale a 5 più 3 Potete spostare questi addendi E raggrupparli Come vi pare Allora raggruppateli Raggruppateli in strisce Cioè Immaginate di fare Che la i è uguale Alla somma Dei momenti di inerzia Delle strisce Di j strisce Quindi in questo caso j sta andando Che so Da 1 a 6 Perché ho fatto 6 strisce E cos'è la i j? E cos'è la i j? La i j è È una stima Quello che sto per fare È circa uguale È circa uguale Alla massa della j I esima striscia La scrivo con la m maiuscola La massa della j esima striscia Per la distanza della j esima striscia Al quadrato Cioè sto prendendo tutte le particelle Che hanno la distanza di j E li sto raggruppando assieme Cioè se volete Come potrei Credo che sia già abbastanza chiaro Se qualcuno Non è inutile aggiungere parole Rischio di far confusione Credo che sia chiaro Come sto facendo Se qualcuno non l'ha capito Alzerà la mano Proprio se non l'ho capito Io organizzo tutte le mie particelle In strisce E il contributo della j esima striscia Io la stimo così Come la massa della striscia Perché questa cos'è? Questa qua è la somma Delle particelle I Dove le I appartengono alla j esima striscia Questa qua è la massa della striscia Cos'è? E' la massa E' la somma delle masse E' tutte le particelle Che occupano la j esima striscia D'accordo? Quindi io nella mia somma Qua Raggruppo tutte le particelle Che sono nella stessa striscia Quindi ho Diciamo Una somma Di tutte le particelle Che compongono la j esima striscia Ok? In realtà In questa somma qua Io ho La m Non voglio neanche scrivere Perché non saprei Facciamo così Quindi Questo è vero Questa è la formula vera Ho tutte le particelle E raggruppo quelle Che sono nella mia testa Nella stessa striscia Quelle che sono nella stessa striscia Questa Il contenuto del mondo Il momento di energia Cioè a rigore E' quella somma lì Ma poi dico Queste qua Assegno Una comune Distanza Per poterla portare fuori Della sommatoria Quindi dico Che tutte le di Sono circa uguale Alla Distanza Della j esima striscia Cioè quello che io chiamo Questa distanza qua Questa è la j esima striscia Scusatemi Non voglio cambiare i simboli Quindi questa è la j esima striscia E cosa dico? Che tutte le particelle che sono qui Questa, questa, questa Invece di avere ognuno la propria vera distanza Sostituisco la vera distanza con la distanza misurata dalla sinistra Quindi con questa qua Ok? Queste tre distanze non sono uguali a quelle Ma sono circa uguali Quindi Qua faccio un'approssimazione Dico le distanze vere Le sostituisco con una distanza comune Quella che io definisco Cioè misurato dalla sinistra Quindi sostituisco questo qua Avendo un numero che è comune a tutti questi addendi Lo posso portare fuori dalla sommatoria Ed ecco quello che ho qua La distanza comune per quello che resta quando porto questo fuori E' chiaro? Somma delle masse Ok? Quindi Sto facendo così Sto sommando sulle strisce Dalla prima all'ennesima In questo caso dalla prima alla sesta Questa è la j esima In blu Questa è la j esima striscia Ok? Questa è la j esima striscia E la j esima striscia è larga E qua ci troviamo brevemente Questo è delta x j Va bene? Ciao a breve pausa Ciao a breve pausa Grazie a tutti Già Grazie a tutti